ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di lauri ciao oggi video recensione di questo art book dedicato a saiyuki e alle altre opere di kazu yaminekura infatti qua abbiamo in copertina la sua opera principale ovvero saiyuki e adesso andremo a vedere cosa c'è dentro allora principalmente appunto ci saranno le illustrazioni di saiyuki infatti si apre subito con le illustrazioni dei quattro protagonisti poi si chiaramente ha un formato classico da art book infatti è molto grande la qualità della carta è buona davvero molto molto bello insomma consigliato sicuramente a tutti i fan di saiyuki quello sicuramente e le altre opere dell'autrice poi ragazzi vi ricordiamo se volete acquistare questo altri prodotti link in descrizione japan shopping service e sì no di questo esistono tre art book infatti questo è il primo e poi c'è backgammon 2 e backgammon 3 e poi ne è uscito un altro che si chiama invece backgammon remix ecco qua invece iniziamo un'altra opera dell'autrice ovvero wild adapter sì che poi spesso e volentieri magari appunto ci sono certi mangaka che tengono quello stile magari vedete cioè qui sembra appunto akai come diciamo sembianze quindi ecco qua c'è un'altra opera bus gamer e quindi magari alcuni personaggi ricordano un po' per l'appunto altri visti in altre opere per l'appunto qui abbiamo diorama qua è carino insomma che vedete così no comunque è davvero un art book molto molto bello poi appunto le illustrazioni sono una più meravigliosa dell'altra qui ci sono protagonisti insomma di saiyuki con tutti i dati insomma altezza peso data di nascita interessante siamo verso insomma la fine di questo art book eh sì ci sono le ultime illustrazioni ecco qua entriamo in questi diciamo sketch preparatori comunque vedete di tutti i personaggi delle sue varie opere insomma è davvero molto bello è davvero e poi come ogni art book appunto c'è diciamo tutte le informazioni di riferimento cioè qua ad esempio se vuoi questa illustrazione vai a pagina 19 insomma è fatto veramente bene ecco e poi qua vi dice appunto da che opera è presa quindi insomma tutte le illustrazioni catalogate qua appunto c'è un commento dell'autrice è davvero bellissimo qui c'è il retro eccolo qua eh sì molto molto bello bene ragazzi io direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate o condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao